Comunque non mi ricordo i risultati, comunque attenzione a Zampaglione, si libera dall'avversario, Zampaglione, Zampaglione il traversone, secondo palo Longoni in ritardo, la palla è lunga, poi in scivolata riesce a servire al rimorchio a Crialese, lascia Giuffrida, prova il destro, Giuffrida, il portiere blocca, testa, è il primo tiro verso la porta per la Vigor Lamezia al 32esimo, 32 minuti per liberare un tiro verso la porta, vedete un po' l'attenzione. Dicevo che l'Aquila è in svantaggio con gli sconci diretti, attenzione, domenica abbiamo subito un gol così sul rinvio del portiere, mamma mia quanta sfortuna domenica scorsa il palo che va proprio a fare il passaggio al giocatore Iorio di Crotone dell'Arzanese, ha messo quasi al sicuro l'Arzanese, non sappiamo il risultato dell'Arzanese sull'altro campo, attenzione, tocco morbido per De Luca che viene un po' trattenuto dal diretto avversario, rinvio l'Aquila, Marchetti sicuramente è arrivato qualche risultato anche ai giocatori, si comincia un po' a pensare.